Cittadella non aderisce ai progetti di altri, ma è pronta a sedersi ad un tavolo di lavoro per la realizzazione di un progetto comune. È il momento di frizione nell'incontro di Fontaniva tra i sindaci dell'Alta Padovana per la costituzione di quella Unione della Brenta, già stretta tra i sindaci di Carmignano e Fontaniva, Alessandro Bolis e Lorenzo Piotto. Impegnato in giunta il vice sindaco reggente Luca Piero Bonna a parlare è stato il consigliere comunale Luigi Sabatino, che, seppure con qualche tono polemico in merito al convolgimento della propria municipalità, ha cercato di spostare il tiro sull'unione dei servizi, tema già caldeggiato peraltro dalle opposizioni fontanivesi. A conti fatti, proprio Cittadella, il comune che dovrebbe essere capofila dell'iniziativa, appare come l'anello debole di un processo che viceversa altrove ha raccolto consensi. Il sindaco di Tombolo, Cristian Andretta, per esempio, ma anche San Giorgio in Bosco, tramite il vice sindaco Nicola Pettenuzzo, si è riservato di aderire nei prossimi mesi, mentre Gerry Boratto, di San Martino di Lupari, ha suggerito di lavorare prima per micro aree territoriali per poi giungere ad una grande unione. Il sindaco di Galliera Veneta, Stefano Bonaldo, pur interessato, ha auspicato la collaborazione con Cittadella, segno evidente che la città murata rimane un tassello fondamentale nel mosaico della Costituente Unione dei Comuni.